La bionda e la bruna Chiara e Vittoria Colombo, due sorelle sinti, diventate il terrore degli anziani della bassa padovana. Dal giugno del 2013 all'ottobre del 2014 hanno imperversato tra Agna, Bagnoli di sopra, Anguillara, Candiana e Codevigo, raggirando e derubando 80 anni soli, spesso disabili e incapaci di difendersi. Le due sinti, residenti nel campo di Chirignano nel Veneziano, sono state arrestate dai carabinieri di Piove di Sacco. Le vittime che venivano selezionate appunto tra quelle più anziane e quelle che erano in grado anche fisicamente di opporre la minor resistenza. Purtroppo è altresì caduto che in due di questi casi, oltre i dieci furti in abitazione che abbiamo constatato e contestato nell'ordinanza, le vittime sono state anche aggredite fisicamente dalle due indagate. Ad una 72enne di Candiana hanno rotto addirittura una costola. Sceglievano le loro vittime, poi adottavano ogni volta stratagemmi diversi per evitare che con il passaparola gli anziani potessero individuarle. Le indagate asserivano essere chiaramente in maniera falsa delle addette a degli accertamenti sanitari e sottoponevano materialmente le vittime anche a delle pseudo visite mediche. Oppure si figgevano addette comunali per il controllo delle pensioni e si facevano consegnare i libretti postali. A volte invece distraevano gli anziani facendo compilare finti moduli. Con queste tecniche hanno rubato soldi e gioielli per circa 20.000 euro. Le due sorelle sono state bloccate a Sant'Angelo di Piove mentre stavano facendo un sopralluogo per cercare la prossima vittima.